Scambio elettorale politico mafioso arrestato l'ex sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, questa mattina alla sezione operativa della DIA di Salerno ha inseguito il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla sezione del riesame del Tribunale di Salerno nei confronti dell'ex primo cittadino e di Luigi Gennaro Ridosso, entrambi pregiudicati per associazione di tipo mafioso, istorsione e reati in materia di armi ed attualmente detenuti. I tre sono accusati di scambio elettorale politico mafioso in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Scafati del 2013. L'ordinanza verso la quale i tre indagati avevano proposto ricorso in Cassazione e respinto dai giudici scaturisce dall'operazione Sarastra messa a segno dalla DIA e diretta e coordinata dalla DIA della Procura di Salerno. L'indagine era stata avviata a fronte di un attentato dinamitardo consumatosi nell'ottobre del 2014 ai danni di un consigliere comunale di minoranza. L'atto intimidatorio, secondo gli inquirenti, era collegato all'opposizione che il consigliere aveva più volte manifestato contro alcuni appalti ed affidamenti di servizi per la realizzazione di opere pubbliche conferite dall'amministrazione comunale. Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi utili all'emissione nel 2015 di un decreto di perquisizione esteso anche agli uffici del Comune di Scafati e di sequestro di documentazione nei confronti di cinque indagati, tra i quali l'ex sindaco Pascola Liberti e la moglie Monica Paolino, attualmente consigliere regionale, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, finalizzata lo scambio elettorale politico-mafioso, abuso d'ufficio, concussione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, tutto in relazione alla gestione di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche e a numerosi affidamenti diretti. Al termine delle indagini e sulla scorta delle evidenze raccolte, nel settembre 2017 la sezione del riesame del Tribunale di Salerno, accogliendo l'appello del PM, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare divenuta esecutiva oggi in seguito al riggetto del ricorso in cassazione proposto dai difensori. La misura cautelare è stata eseguita in mattinata. A termine delle operazioni, il ex sindaco di Scafati, Pascola Liberti, è stato trasferito presso il carcere di Salerno Forni, mentre Luigi e Gennaro Ridosso restano negli istituti penitenziari dove già sono detenuti.